Per me i candelieri sono tutto, sono 23 anni che riguardo da quando sono nato e adesso vi racconto una storiella breve diciamo. Qualche anno fa ero da Alghero con dei miei amici e avevamo deciso di non guardare i candelieri, perlomeno io avevo deciso di non guardare i candelieri, avevo un magone dentro lo stomaco e alle due e mezzo ho chiamato mia zia e mi sono fatto venire a prendere perché non potevo mancare i candelieri, quindi questo rappresenta cosa sono per me i candelieri, quindi veramente sono tanto per i candelieri. Grazie